Quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri collaboratori è proprio quello, quello di entrare a far parte di una famiglia, di una grande famiglia e quello di poter non eseguire quello che noi diciamo di fare, cioè cercare di collaborare insieme, di sviluppare insieme quelle che possono essere le richieste del cliente, senza chiudere porte a nessuno. La nostra in questo momento necessità è proprio quella di trovare delle persone che collaborano a 360 gradi con noi, quello che facciamo molto per il cliente è la possibilità di personalizzare il proprio prodotto, più che una gente che deve essere un nostro collaboratore con il quale avere un rapporto quotidiano, giornaliero. Ciao, oggi voglio parlarti di un'azienda storica, un'azienda che è specializzata in quello che loro definiscono il sistema di riposo, ovvero si occupano di prodotti quali materassi, rivestimenti, reti, cuscini. Se sei un'agente che opera in questo settore e ti rivolgi ad aziende che vendono questo tipo di prodotto, grande distribuzione, rivenditori specializzati, eccetera, ti consiglio di guardarti questa video intervista, alla fine della quale ti darò anche le informazioni per poterti candidare. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Enzo Magistro, benvenuto Enzo. Buongiorno a tutti. Molto bene, allora Enzo è il business director di Conis e SRL, oggi ci racconterà un pochino la realtà di questa azienda. Molto bene, procediamo con le domande. Enzo, voi lavorate ovviamente nell'ambito dei materassi e tutto quello che riguarda ovviamente il vendormire fondamentalmente. Mi piacerebbe che ci dicessi per quali caratteristiche il cliente sceglie proprio voi. Faccio una breve presentazione dell'azienda, l'azienda ha oltre 40 anni di storia e noi nasciamo dal settore dei sistemi di riposo oramai da 40 anni e quindi tutti questi anni l'azienda ha investito in innovazione, tecnologia e scelta dei prodotti. Ora siamo arrivati a un livello tale dove abbiamo la possibilità di fornire ai clienti dei prodotti personalizzati, quindi parliamo di materassi, cuscini e rivestimenti. Quindi parliamo dalla materia prima, quello che c'è all'interno del materasso, fino al rivestimento esterno e tutto di produzione nostra. Quindi quello che possiamo offrire al cliente è proprio la possibilità di personalizzare a 360 gradi quello che è il materasso. Ok, un centro è un plus molto importante, unito ovviamente alla questa che abbiamo detto, come abbiamo detto, grazie agli strumenti e alla vostra esperienza comunque di tanti anni nel settore. Ultimamente abbiamo fornito alla nostra azienda di macchinari industriali veramente importanti, innovativi sotto tutti i punti di vista. Quindi la nostra ricerca, abbiamo proprio un ufficio di sviluppo di ricerca che è molto attento a queste esigenze che il mercato è veramente utile. Ok, allora invece parlando di agenti, in questo momento state crescendo e avete necessità comunque di intraprendere collaborazioni con profili commerciali che siano interessanti, quindi ti chiedo quali sono le caratteristiche del profilo che state cercando? Allora, noi stiamo cercando in questo momento di espandere quella che è il nostro bacino di utenza, cercando dei clienti che possano spaziare dalla vendita di grosso alla grande distribuzione, nonché ai venditori specializzati. E non per ultimo, per finire anche a chi può seguire le reti di vendita diretta, perché anche per quanto riguarda il sistema di riposo è importante anche questa tipologia di mercato. E non trascuriamo neanche chi vende online, quindi sono molti canali che noi abbiamo a disposizione, quindi è un mercato importante di cui ne facciamo parte da oramai, perché siamo una delle aziende più importanti in Italia. Quindi il nostro candidato in questo caso deve avere la possibilità di spaziare attraverso questi canali, se non su tutti, però almeno una parte di questi. Ok, d'accordo. Comunque al profilo commerciale con cui poi intraprendete una collaborazione, offrite comunque determinate opportunità, sviluppate l'opportunità commerciale con la gente in maniera interessante. Ce lo spieghi? Sì, allora noi chiaramente con la gente quello che andiamo a instaurare inizialmente è proprio un rapporto di collaborazione a 360 gradi. Cosa significa? Che essendo un'azienda specializzata nella personalizzazione è facile che il cliente ci possa fare delle richieste particolari. Quindi la gente deve essere con noi, tra virgolette, connesso in modo continuativo, proprio perché ha bisogno del nostro supporto e noi abbiamo bisogno di conseguenza anche del supporto della gente. Cosa significa questo? Che la figura che noi cerchiamo non è che ne la mettiamo lì e la abbandoniamo a se stessa. Verrà costantemente seguita e avrà da noi il massimo supporto, diciamo che può essere dal catalogo, dal sito internet o anche dal costante contatto quotidiano giornaliero, in modo tale che insomma possa avere una formazione molto precisa e non lasciarlo a se stesso. Quindi diciamo queste, le peculiarità sono queste, che noi cerchiamo di dare al nostro collaboratore. Ok, e prima mi hai detto anche che vi trovate spesso in questa opportunità commerciale, diciamo anche al di fuori della rete, quindi avete anche determinati clienti che potete passare in prima fase ai vostri commerciali. Sì, sì, perché noi diciamo ci arrivano molto spesso dei contatti da tutta Italia e quindi attraverso il nostro sito, attraverso chiaramente aziende che fanno ricerche di mercato e che quindi arrivano a noi indirettamente. E quindi noi questi nominativi abbiamo la necessità proprio di fornirli a regione per regione, chiaramente da dove ci arrivano i contatti, di modo tale di avere un contatto diretto con queste aziende. E quindi abbiamo, diciamo, dei leads, questi nominativi ci arrivano anche direttamente, noi rigireremo proprio ai nostri aziende. Poi è chiaro che è importante questo perché abbiamo diversi canali già operativi. Ok, e invece come ultima domanda ti chiedo, per quale motivo una gente che sta guardando adesso questa videointervista dovrebbe valutare una collaborazione con voi? Perché comunque prima di tutto entrerebbe a far parte di una famiglia. La cosa importante è proprio questa, cioè noi abbiamo un rapporto con tutti i nostri collaboratori, proprio di scambio di idee quotidiane e giornaliere. Lo scegliere noi significa comunque avere alle spalle un'azienda che possa essere disponibile tutti i giorni a 360 gradi, dare il massimo del supporto e quindi non sentirsi mai da solo abbandonato in una giunga, che oggi purtroppo è quello che sta succedendo in questo settore, avere sempre un costante supporto. Scegliere noi è perché l'azienda è un'azienda seria, non oltre 40 anni di storia, quindi diciamo che ci poniamo sul mercato come in una delle aziende vive, quindi di conseguenza, insomma, è importante anche per chi collabora con noi, proporsi ai clienti sapendo davvero alle spalle un'azienda importante. Ok, quindi, insomma, fondamentalmente la gente che ci sta guardando vede un prodotto interessante, comunque molto vendibile e particolare, un'azienda con, diciamo, una grande esperienza nell'ambito e che sarà molto presente, oltre a fornire determinate opportunità da sviluppare anche insieme a voi, quindi sostanzialmente formerà collaborazioni, durature con il commerciale. Giusto? Certo, ok. Sì, sì, sicuro. Bene, ti ringrazio, Vincio, per averci descritto la realtà di Colmis e ti saluto e ti auguro un buon lavoro. Grazie, grazie. Un saluto anche a voi e a tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.